Fingevano di essere i militari della Guardia di Finanza con tanto di divise distintivo per entrare nelle abitazioni e rapinare di ogni bene le vittime. Vasta operazione della Polizia di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di dieci persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, rapina gravata e possesso di segni distintivi contraffatti. Le rapine commesse tra il luglio 2017 e maggio 2018 sono state eseguite spesso con l'uso di armi agevolate dalle informazioni acquisite attraverso conoscenti delle vittime. La Polizia ha accertato che la banda aveva messo in atto la rapina in via Catone il 25 luglio 2017 dove ha asportato circa 50 mila euro tra oro e contanti. Altra rapina il giorno successivo in via Marco Aurelio, la stessa banda entra in azione anche il 14 dicembre 2017 in via degli Zingari dove ha asportato alcuni cellulari e denaro contante. Il 23 gennaio 2018 arriva invece in via Virginia Wolf. I ladri si sono impossessati di due orologi Rolex e denaro contante. Anche in via Madonnele la banda è riuscita a portare via un orologio Rolex e 25 mila euro in contanti alcuni telefoni cellulari. In via Augusto Righi sono stati portati via altri due Rolex e 10 mila euro in contanti e un'auto Suzuki. La modalità delle rapine dunque era ormai consolidata ultima quella del 27 marzo 2018 in via Petrarca dove la banda ha asportato 15 mila euro in contanti alcuni effetti personali. A incastrarli le telecamere installate in diversi condomini che hanno notato le divise addosso ad alcuni componenti della banda non è stato difficile identificarli.